Il problema delle mense scolastiche sembra essere sempre quello, la cucina multietnica non convince molto. Un problema che c'era già nel 2017, c'è stato nel 2018 e si è rappresentato anche quest'anno, soprattutto nel passaggio da menù invernale a menù estivo. E' poco gradito dai bambini, adesso al di là dell'aspetto anche visivo, che non è molto gradevole a volte, queste passate di verdure o piuttosto che delle insalate verdi con mais come primo, dei tortini di patate, evidentemente non incontrano il gusto dei bambini. Io capisco che bisogna educare i bambini a una corretta alimentazione, per questo hanno preso anche dei premi come servizi educativi e va bene, però a questo bisogna conciliare il fatto che i bambini devono tornare a casa che hanno mangiato, non che sono affamati, che hanno mangiato solo il pane, come mi raccontano tantissime famiglie che si sono rivolte a me. Adesso ho riportato alla stampa, che comunque è all'opinione pubblica, il problema, mi auguro, ormai è terminato il periodo della riflessione il 30 giugno, io mi auguro che da settembre, quando ci sarà la ripresa dell'anno scolastico, si possa guardare con attenzione le esigenze delle famiglie, perché alla fine questi pagano, c'è anche 170 euro al mese per un bambino, quindi chi ne ha due ne paga più di 340, per ovviamente farlo mangiare, non per vederlo tornare a casa e dargli di nuovo tutto il pasto completo. Ecco, questo è quello che chiedo all'amministrazione pubblica, che mi auguro non alzi un muro come spesso ha fatto, ma anzi cerchi di risolvere i problemi che mi hanno portato molte famiglie di Fano.